Musica Mister, è stata una fatica, è stato anche un po' il vocale a complicarsi la vita sprecando diverse occasioni per chiudere l'incontro però alla fine questa vittoria è arrivata, si è arrivati in semifinale, si è entrati tra le migliori quattro squadre calabresi, una grande soddisfazione finalmente La soddisfazione è grande ma fino a un certo punto perché io vedere la mia squadra avere 7, 8, 9 azioni e gol e non chiudere la partita e poi giustamente lasciamo la partita aperta con un gol preso poi gli ultimi minuti dà un po' fastidio anche perché macini il gioco, fai azioni e poi alla fine non sei concreto, non sei cinico, non mi sta bene bisogna lavorare in settimana per vedere un attimino anche perché adesso le cose vanno a stringere le squadre rimaste sono quattro quindi di conseguenza resteranno le più forti e quindi dobbiamo fare adesso un grandissimo lavoro per evitare queste situazioni è una partita che nel primo tempo scivolava bene, nel secondo tempo con un risultato di 2 a 0 puoi chiudere la partita con altre 6 azioni e poi invece facciamo riaprire la partita alla Gioiese anche se devo dire che ho trovato una squadra ben messa in campo, una squadra quadrata, molto grintosa noi siamo più tecnici e questa tecnica poi alla fine la andiamo a pagare perché se non concretizziamo tutto quello che facciamo alla fine poi paghi e stavamo pagando poi effettivamente ma comunque va bene così, l'importante è passare il turno Ecco, Bocale che entra in semifinale vado un po' a memoria Wojcik, Zuccalà, Lori, Fragomeni, Lombardo, Neri sono molti di quei ragazzi che due anni fa con gli allievi sono arrivati tra le prime quattro in Calabria e la dimostrazione che lavorando i risultati arrivano puntando sulle persone giuste e avendo la pazienza di lottare Intanto sono dei giovani che conosco abbastanza bene perché fondamentalmente sono cresciuti con me e ho una grande fiducia in questi ragazzi i ragazzi che hai nominato tu si sono arrivati nei primi quattro della Calabria negli allievi Dimenticavo Caroleo e Falcone, se non sbaglio c'erano anche loro Caroleo e Falcone, ma voglio anche citare ragazzi che sono stati oggi titolari 2002, il Megale, il Vono, gli Scaramozzino, i Polimeni che stanno dando delle grossissime soddisfazioni veramente un serbatoio brillante, un serbatoio che può servire molto al vocale calcio anche come prima squadra infatti Polimeni già è nel giro della prima squadra può essere nel giro della prima squadra sono ragazzi per me molto, ma molto, ma molto interessanti certo, sacrificio, lavoro, paga bisogna continuare a lavorare siamo qui per questo, per lavorare Un'ulteriore vetrina ci sarà adesso col torneo delle regioni ci saranno almeno 4-5 ragazzi che faranno parte delle rappresentative Under-19 e Under-17 altra soddisfazione per il vocale la dimostrazione che il lavoro del settore giovanile è apprezzato anche fuori dal vocale è apprezzato anche fuori siamo con quattro ragazzi sia nell'Univers che negli allievi anche se poi alla fine dovevano essere sei non so cosa sia successo in corso d'opera avevamo Vono fino all'ultimo convocato l'ultimo giorno poi non so come mai sia uscito fuori che secondo me è un ragazzino che ha una pulizia di gioco incredibile e poi pure Keita non lo so cosa è successo anche con Keita ma comunque la soddisfazione è immensa lo stesso sono ragazzini che continueranno a lavorare si faranno sentire un altro anno nel torneo delle regioni sono sicuro il tempo va con loro sono dei ragazzi che amano lavorare infatti sono a vocale compiendo anche tanti sacrifici quindi io sono molto tranquillo e molto soddisfatto direi mister c'è tanta amarezza alla fine di questa partita che la Gese è riuscita a riaprire dopo un inizio secondo tempo che vi aveva visto un po' in difficoltà siete riusciti a resistere agli attacchi del vocale l'avete riaperta avete anche reclamato per alcuni episodi che vi hanno lasciato scontenti è più la rabbia per le decisioni arbitrali che vi scontento o più l'amarezza per il traguardo che avete mancato quest'oggi? l'amarezza un po' rimane perché onestamente abbiamo regalato un tempo il primo tempo non abbiamo giocato affatto poi al secondo tempo magari ci siamo messi meglio in campo eravamo più quadrati poi ci sono stati degli episodi che voi con le telecamere potete vedere che ci sono netti tre regoli però purtroppo il calcio è questo e alla fine conta il risultato però devo dire bravi ai miei ragazzi che hanno fatto un secondo tempo proprio degno di quelli che sono che sono ragazzi eccezionali che hanno dato tutto in campo lottando fino all'ultimo minuto per me moralmente abbiamo vinto due squadre oggi che si sono affrontate che hanno mostrato comunque di essere tra le più forti della regione meritavano di essere tra le migliori otto forse anche tra le migliori quattro non sarebbe stato male vedere una semifinale già a Bocale Gioiese il livello mostrato quest'oggi è elevato si sapevo che il Bocale non ha ottenuto la squadra perché mi avevano detto che ha dei ottimi giocatori che giocano in prima squadra sapevamo delle difficoltà che andavamo ad incontrare però avevamo studiato che c'erano dei punti deboli e li abbiamo sfruttati nella maniera esemplare però non ci dobbiamo rimproverare niente i ragazzi hanno dato tutto hanno dato il massimo purtroppo per degli episodi che ci hanno penalizzato tantissimo quando ero in tribuna perché sono stato espulso la gente alle mie spalle mi rincuorava dicendo mister c'erano tre riconnetti però purtroppo non bisogna recriminare cioè questo è il calcio questi sono gli arbitri che ci mandano la domenica però è questo comunque un settore giovanile quello della Gioiese che sforna sempre ragazzi interessanti e che potranno aiutare anche la Gioiese impegnata in promozione nei prossimi anni a crescere magari a puntare una risalita che il calcio a Gioia Tauro insomma da diversi anni ormai che attende un nuovo palcoscenico importante certo la nostra prerogativa è questa con mister Nocera abbiamo sposato questo progetto per i giovani abbiamo fondato il settore giovanile dai primi calci alla Juniors ci sono giovani interessanti abbiamo fatto esordire un giovane un 2004 l'altra volta in casa contro il Gallico Catona che ha fatto bene sta facendo giovanissimi allievi e Juniors quindi ci sono degli ottimi elementi onestamente ci stanno dando delle soddisfazioni che ha fatto bene che ha fatto bene che ha fatto bene